Siamo ancora in studio, stai guardando Dance Corner? Io ve lo dico sempre, vi abbiamo abituato troppo bene, io vi ho abituato troppo bene, perché anche oggi passava di qua un amico, c'è Samuele Sartini. E questo è un grande ritorno, un grande ritorno. Ebbene? Eh sì. Sì, sì, sto bene, con te è ancora meglio. Uno dei miei preferiti, lo posso dire. Eh vabbè, sono di parte. Troppo gentile, troppo gentile. Samuele, tu sei qua, perché c'è un videoclip e una produzione nuova. Keep Dance. Eh sì. Noi la conosciamo bene perché, tra l'altro, possiamo dire anche quello, era dentro la compilation di Dance Corner, abbiamo avuto un'esclusiva, un'anteprima. Assoluta quest'estate. Incredibile. Sto girando su e giù per l'Italia, mi sto occupando personalmente, ci voglio mettere la faccia in questa produzione, perché ci crediamo tantissimo, nasce come follow-up della fortunata My Lovin, ho la fortuna di poter collaborare con i Crazy Pizza, che stanno andando davvero molto bene a livello internazionale. E siamo pronti con questa nuova song, come hai detto tu, appunto, Kid Dancing fresca in questo inverno freddo, rigido e gelido. E quindi dai, la canzone è giusta. Mi diverte suonarlo, ci siamo divertiti tantissimo a produrlo. e fermo lì, come hai detto tu, da un po', per dinamiche discografiche che conosci, sai, no, le problematiche, però è una fortuna. Adesso siamo pronti nel momento giusto. Ma posso dirti che anche il video girato quest'estate ti fa venire una voglia, è proprio figo in questo periodo, che fa freddo, ti vedi quel video stupendo. È vero, insomma, è una location, l'abbiamo girato, insomma, nel deserto dell'Egitto. Siamo divertiti, siamo stati con la troupe giù dieci giorni, ci siamo divertiti come dei matti. Avrei da raccontarti un sacco di aneddoti, un sacco di cose divertenti. Raccontami invece come è nata, perché lo voglio sapere, come è nata la collaborazione con Crazy Beats? Guarda, sono onesto, io li avevo contattati per un remix di Jumping. Poi loro si sono avvicinati al mio mondo, hanno visto che comunque eravamo capaci a sviluppare canzoni, una cosa che loro magari si erano occupati meno, si erano sempre concentrati sul club. Beh, mi hanno proposto questa collaborazione che abbiamo accolto a braccia aperte, non poteva essere così. E stiamo già lavorando a qualcosina di nuovo, stiamo pensando a qualcosa di nuovo. Senti, l'original di Kiddancing la conosciamo bene appunto, perché abbiamo appena detto, era nella compilation, l'ho strassuonata e l'abbiamo ascoltata tante volte anche qua in redazione. Le altre versioni? Il pacchetto è molto ricco, include tre remix, uno Deep, un altro House, curato appunto sempre dai Crazy Beats, Deep da Ride to Life, e una versione un pochino più facile, un pochino più dance, curata dai Look Back. Ah, sì, sì, nostri amici. Sì, è vero, vero, vero. Senti, ci puoi già anticipare se stai lavorando, lo so che siamo in promozione di Kiddancing, però io devo fare così, devo strappare un po' di info. Assolutamente, abbiamo terminato proprio in questi giorni di lavorare a un nuovo singolo, un nuovo Samuele Sartini, previsto tra gennaio e febbraio del 2014, che vede la collaborazione, mi emoziono soltanto a dirtelo, di Ultranate, insomma, un'icona della musica House, che ho avuto l'onore e il piacere di poter avvicinare per questo nuovo progetto, una canzone interessante. Big up, Samuele Sartini, Sartini, eh, si va in su, si va in su, toccati, tocchiamo ferro, ma si va in su. Senti, lo presenti tu, eh? Non sono superstizioso, ma tocchiamo. Lo presenti tu, eh? Va benissimo. Ragazzi, vi presento appunto Kiddancing, il mio nuovo lavoro in coproduzione con i Crazy Biza, la splendida voce di Giacchita Kiddancing. Ciao! Big up! Big up! Big up! Big up! Big up! Sì 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 Sì